È stata una corsa velocissima, devo fare un ringraziamento alla società perché è stata una gara perfetta, curata nei minimi particolari e un elogio all'organizzazione. Lo sprint è stato abbastanza netto, siamo stati fortissimi tutte e tre e siamo arrivati all'ultimo chilomero per giocarsi questa volata e quest'oggi è andata bene a me. Conoscevo bene Maurizio Tommasi, so che è abbastanza veloce, ho provato ad anticiparlo, purtroppo stricione non c'era, non c'erano punti di riferimento, ho sbagliato, ho anticipato un po' troppo la volata e sono stato saldato sotto l'arrivo, ma fa niente, l'importante è che abbiamo fatto una bella gara, non si è successo nulla insomma. Ho vinto Maurizio Tommasi che è un nostro ex compagno di scuderie con Mariotti, abbiamo corso tante manifestazioni, è vero Maurizio? Belli e anche meno belli diciamo, però sono emozionato e sono contento che ha vinto Maurizio, ho curato i minimi particolari per far sì che questa manifestazione riuscisse. Per me devo ringraziare i sponsor, Joe Sport, la Gran Sasso, l'agenzia Strike, tutti, tutti i collaboratori, le forze dell'ordine, l'ambulanza, la croce rossa, tutti quanti. Quest'anno siamo arrivati a un'ottantina e più di partecipanti, significa che ogni anno miglioriamo sempre di più sia come organizzazione sia come tesserati per la partecipazione. Io spero che l'anno prossimo questa manifestazione sarà ancora un po' più accogliente, è vero Maurizio? Sì, io me l'auguro che sia un continuo di questa gara perché l'Erri lo merita.